E avete appena ascoltato Il Politico, il mio nuovo singolo appena uscito e potete riascoltarlo nella home page del mio canale YouTube Marco Puggini. Ora, cari ascoltatori di Radio Puggini On Air, vi parleremo però di un curioso malinteso legato al mondo della musica, i cileni ripieni di zucchero di Mahmoud. Mahmoud, il talentuoso cantante noto per il suo stile unico e le sue canzoni coinvolgenti, ha alimentato la curiosità del pubblico con questa particolare espressione. Ma di cosa si tratta realmente? Si tratta semplicemente di un semplice errore di ascolto. Infatti nel ritornello della sua canzone, Tutta Gold, presentata al Festival di Sanremo 2024, abbiamo anche qui letto a Radio Puggini On Air il testo non appena lo ha pubblicato, TV, sorrisi e canzoni. Mahmoud, in una frase della sua canzone, canta I gilet neri pieni di zucchero I gilet neri pieni di zucchero Tuttavia, a causa della velocità con cui pronuncia le parole, molti hanno frainteso e pensato di sentire Cileni ripieni di zucchero Probabilmente non erano iscritti al mio canale, non hanno ascoltato il testo che noi vi abbiamo letto in anteprima Dunque avete capito da i gilet neri pieni di zucchero, qualcuno ha capito i cileni ripieni di zucchero Che sono dei biscotti, dei dolcetti, del mulino bianco E questa piccola incomprensione ha scatenato un vero e proprio caso sui social media Con centinaia di meme divertenti pubblicati su varie piattaforme Oh, meno male, ogni tanto riusciamo a parlare anche di qualcosa di divertente in questo paese Anche lo stesso Mahmood ha contribuito a questo malinteso Condividendo su Instagram una storia che ritraeva i presunti cileni ripieni di zucchero Come dolcetti della mulino bianco accompagnati dalla scritta MyFav, i miei preferiti Naturalmente ci ha scherzato su, questo dimostra l'autoironia che è propria delle persone intelligenti Tuttavia la verità è ben diversa Il verso, i gilet neri pieni di zucchero potrebbe in realtà essere collegato allo spaccio di stupefacenti La canzone di Mahmood è un racconto denuncia delle difficoltà e delle esperienze vissute nel suo quartiere Durante l'infanzia e l'adolescenza Tra bullismo e abbandono paterno che lo hanno portato a costruire una corazza protettiva Non una carrozza, stavo confondendo le due Una corazza protettiva, dicevo, rappresentata dalla tuta gold Pertanto il riferimento alla droga potrebbe essere più plausibile in questo contesto Piuttosto che a dolcetti immaginari A meno che non siano dolcetti che magari avete comprato in Olanda o da un'altra parte Con questa chiarezza possiamo apprezzare ancora di più il significato profondo e la potenza delle parole di Mahmood Che attraverso la sua musica ci offre uno sguardo autentico e toccante sulla sua vita E sulle sfide affrontate nel suo percorso artistico Allora restate sintonizzati ancora con Radio Puginion Air Per ulteriori aggiornamenti e curiosità dal mondo della musica e non solo Ora ascoltiamo una playlist E la prima canzone che vi facciamo ascoltare è Supereroi di Mitoom Un singolo pubblicato di recente Dove io alla fine, c'è un assolo di clarinetto Sentirete, io suono il clarinetto E ne sono davvero onorato perché è una canzone bellissima L'abbiamo anche eseguita live in una piazza stupenda Sembra la Rocca di Papa Ed è stata un'emozione fortissima Dunque un saluto alla mia carissima collega Mitoom E ora ascoltiamo Supereroi Alla prossima puntata di Radio Puginion Air Alla prossima puntata di Radio Puginion Air